ciao bentornato nei video precedenti ho parlato in generale di onde meccaniche se non li hai visti li puoi trovare nella playlist f3 adesso vediamo più nello specifico che cos'è il suono in particolare in questo primo video vediamo come si produce il suono che cos'è come si propaga e come può essere udito dagli esseri viventi allora il meccanismo è abbastanza semplice questi puntini neri che vedete sono molecole di di aria o di un altro gas o anche un fluido e abbiamo un oggetto che vibra che chiamiamo membrana questa qua in rosso quando la membrana si sposta avanti produce una zona di compressione mentre e quindi l'aria compressa è spinta in avanti andando in avanti dietro di sé lascia una zona di rarefazione poi seguita da un'altra zona di compressione e così si propaga l'onda quindi sono dei fronti d'onda cioè delle zone ad aria compressa seguite da zone di aria rarefatta ho evidenziato in rosso tre molecole e vedete che le molecole in realtà fanno solo delle piccole oscillazioni avanti e indietro ciò che si propaga è il fronte d'onda quindi le linee blu che vedete sotto è la velocità dell'onda che non coincide col reale movimento delle molecole d'aria che si limitano a oscillare a fare piccole oscillazioni avanti e indietro per cui l'onda il suono ma tutti i tipi di onde è un trasporto di energia senza che avvenga trasporto di materia le onde sonore si possono rappresentare graficamente su appunto su un piano cartesiano dove sull'asse y mettiamo la pressione dell'aria e sull'asse x la posizione e se la membrana si muove di moto armonico allora la curva sarà una sinusoide l'onda sonora entra nel condotto uditivo e mette in movimento una piccola membrana chiamata timpano quindi di fatto è l'energia cinetica della membrana esterna che produce il suono che viene trasportata dall'onda e trasferita in energia cinetica dalla membrana del timpano questo timpano è collegato a degli ossicini dell'orecchio medio che spingono su questa parte più interna a forma di guscio di chiocciola detta coclea la coclea contiene un liquido quindi l'onda si propaga in questo liquido e viene trasferita al nervo acustico questa questa strada di puntini rossi e il nervo acustico trasforma l'onda sonora in un segnale nervoso che trasferisce al cervello che decodifica appunto come suono e in base alla frequenza dell'onda sonora cioè in base a quante vibrazioni fa il timpano ogni secondo noi possiamo avvertire il suono come grave oppure come acuto grazie alle scienze biomediche siamo in grado di realizzare cocle artificiali e impiantarle nell'orecchio in persone affette da sordità profonda in modo da poter ridare il senso dell'udito a persone che non avrebbero potuto sentire nemmeno con i migliori apparecchi acustici in teoria se voi muovete una mano ad esempio avanti e indietro producete un'onda sonora però come mai non si sente niente perché l'orecchio umano è solo in grado di sentire quelle onde che hanno una frequenza compresa tra i 20 e i 20.000 hertz che cos'è la frequenza e il numero di fronti d'onda generati ogni secondo se voi muovete la mano al massimo potete arrivare a fare due o tre movimenti completi in un secondo quindi fate un suono che ha solo due o tre hertz che non può essere udito da un orecchio umano ed è detto è detto infrasuono invece ad esempio una zanzara muove le sue alette molto più velocemente ad esempio può dare non so ma diciamo 50 colpi d'ala al secondo e quindi produce un suono che una frequenza di 50 hertz che può essere udito in giovane età si arriva fino a 20.000 hertz anche 22.000 poi col passare degli anni noi esseri umani perdiamo la capacità di udire i suoni ad alta frequenza quindi se dei giovani comunicano a frequenza intorno ai 20.000 hertz possono farlo senza essere sentiti dalle persone più anziane molti animali come i cani o i pipistrelli riescono a sentire frequenze più alte i cosiddetti ultrasuoni per ora è tutto ma nei prossimi video vedremo ancora tantissime cose sul suono ad esempio vedremo che cos'è l'eco oppure qual è la fisica che sta dietro alle notte musicali come mai una certa nota con uno strumento è diversa dalla stessa nota con un altro strumento e ancora l'effetto doppler che cos'è il muro del suono il boom supersonico che cosa sono i decibel e che cosa si intende per inquinamento acustico e tante altre cose se non vuoi perdere questi video iscriviti al canale e salva questa playlist f3 grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti